Da decenni i pini di Errano allietano il passaggio dei viaggiatori lungo la strada per Firenze, con la loro altezza imponente e l'ampia chioma. Insomma, è sempre un piacere vederli, ma negli ultimi anni ne sono spariti parecchi. Piantumati verso la fine dell'Ottocento, come quelli dell'Olmatello e di Casterraniero, nel corso del tempo i pini sono ovviamente cresciuti, così come si è sviluppata ai loro piedi l'ex statale 302, anche con l'aggiunta di una pista ciclabile. A causa quindi dell'età avanzata e dell'aumento della strada, eppure essendo di proprietà privata, gli alberi sono stati sottoposti a continui controlli pubblici per prevenire cadute potenzialmente letali per automobilisti e ciclisti. Per questo ogni tanto si assiste a degli abbattimenti messi in atto per ragioni di sicurezza, con successiva ripiantumazione, se possibile, di un nuovo pino con fittone integro in grado di sviluppare delle radici forti che garantiscano alla pianta nel corso del tempo una maggiore esistenza per esempio al vento o alla neve, che non sta troppo simpatica ai nostri amici pini. Faenza in un minuto.